Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi sono qui per presentarvi una nuova opzione che YouTube ha donato ai creatori di contenuti come me, ovvero la possibilità di abbonarsi al mio canale. Fermi tutti, lo so cosa state pensando, questo canale non diventerà mai ovviamente a pagamento e i contenuti, quelli a quali siete abituati, rimarranno presenti gratuitamente ogni settimana. In questo momento della mia vita stanno cambiando tante cose e ho deciso di dedicarmi in maniera più costante anche a questo canale e di allargare l'offerta di ciò che vi propongo. Quindi parlare non soltanto di libri o comunque prevalentemente di libri, ma parlarvi anche più di sostenibilità, di ambiente, della vita in campagna, fare blog, parlare di crescita personale, insomma tutto ciò che mi appassiona e che rende più ricca la mia vita. Inoltre mi sto dedicando ad un nuovo progetto nel quale credo tantissimo e che vi presenterò tra pochissimi giorni. Un progetto che porterà tantissime novità qui su internet e del quale vi assicuro non vedo l'ora di potervi raccontare. In questo periodo ho sentito anche il bisogno di approfondire una tematica che ha cambiato la mia vita e che l'ha resa migliore e che appunto ho avuto voglia di studiare in maniera più accurata. Sto parlando della mindfulness, sto seguendo un corso professionale di mindfulness che alla fine mi rilascerà un attestato e che appunto mi permette di imparare di più su questo grandissimo argomento e soprattutto sulla crescita personale, quindi su come aiutare non solo me stessa ma anche gli altri ad ottenere la vita dei nostri sogni, una vita che rispecchi tutti i nostri desideri perché anche se ci è stato insegnato che questo è impossibile io in realtà ho avuto la dimostrazione che questo è assolutamente possibile. Questo per dirvi che l'abbonamento al mio canale ad un prezzo veramente bassissimo vi permetterà di aiutarmi a sostenere questi progetti che sto portando avanti, a sostenere tutto il lavoro che c'è dietro la realizzazione dei vari video e quindi a ciò che sto portando, ai contenuti che cerco di condividere con voi e di portare su questa piattaforma. L'abbonamento è a due livelli, il primo livello è 1,99€ al mese del quale io chiaramente percepisco un po' meno visto che una percentuale rimane a YouTube. Gli abbonati a questo livello avranno la possibilità di vedere una volta al mese, il primo venerdì del mese, un video sulla mindfulness quindi un video di crescita personale nel quale tratteremo varie tematiche ogni volta una tematica diversa che approfondiremo e che cercherà di darvi anche dei consigli pratici da portare nella vostra vita per renderla migliore. Il secondo livello invece ha un prezzo di 2,99€ al mese e con questo avrete accesso ovviamente al video del quale vi parlavo prima il video di crescita personale e in più anche a una live chat con me che avverrà alla fine del mese, dovrebbe essere l'ultimo venerdì del mese comunque sarete sempre avvertiti sul giorno nel quale si terrà la live chat dove potrete parlare direttamente con me dell'argomento del quale abbiamo trattato appunto nel video sulla mindfulness e potrete chiedermi qualsiasi consiglio o approfondimento e sarà un modo più diretto di chiacchierare e di rendere più reale quel cambiamento che state cercando nella vostra vita. Vi esorto quindi ad abbonarvi al mio canale se avete voglia di accedere a questi contenuti che metterò a disposizione con serietà e con professionalità e spero quindi che questo progetto possa andare avanti il più possibile con più persone possibili in modo da poter arricchire ancora di più questa piattaforma e soprattutto il rapporto che c'è tra di noi. Vi ringrazio fin da subito se deciderete di appoggiare questo progetto e di sostenere il mio lavoro su questa piattaforma e spero che il lavoro che faremo insieme possa portare tanti tanti frutti sia nella mia vita ma soprattutto nella vostra vita. Grazie!